Bentornati su MyFootballJersey. Quella che vedete è la terza maglia dell'Inter Milano in edizione fan per la stagione 2022-2023. Il ritorno del giallo, colore presente nella storia interista fin dalla fondazione con l'oro, elemento distintivo del logo disegnato nel 1908 e oggi presente anche sulla nuova visual identity del club. Proprio il nuovo giallo, colore vibrante e acceso, introdotto nel 2021, fa il suo debutto sulla divisa dell'Inter nel segno anche di una continuità con le maglie utilizzate dalla squadra nella sua storia. Un colore che fa parte dell'identità del club ma che rappresenta anche un forte segnale di stile con un legame profondissimo con Milano e con la sua community. Il DNA della città è esaltato dal kit. All'interno del colletto è presente la scritta Milano mentre i bordi blu e neri incorniciano il giallo della maglia. È una maglia a tinta unita, se vogliamo, semplice. Mi piace però questo bordino azzurro chiaro e nero sul colletto e sulle maniche. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. È sicuramente una maglia fatta molto bene che non stanca, diciamo così, alla vista. Secondo me è ben riuscita. Il costo lo vedete qui sopra e vi ricordo che include anche le spese di spedizione, quindi se vogliamo molto conveniente. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e trovate anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan.